Un inquinamento ambientale persistente che mette a repentaglio la salute dei cittadini che abitano nei pressi della discarica. L'ha stabilito la Corte Europea dei diritti dell'uomo che ha condannato l'Italia per come ha gestito la discarica di Loutaro in provincia di Caserta e ha dato ragione a 11 abitanti di San Nicola, La Strada e Caserta che si erano rivolti al giudice di Strasburgo. I cittadini hanno affermato che aprendo la discarica e non provvedendo poi alla sua bonifica e ripristino ambientale, Le autorità hanno messo a repentaglio la loro salute e hanno anche violato il loro diritto a risiedere in un luogo in cui non dovevano subire le conseguenze dell'inquinamento prodotto dalla discarica stessa. I ricorrenti hanno sostenuto anche che lo Stato li stava discriminando, non garantendo la stessa protezione data ad altri cittadini italiani. La vicenda della discarica all'Uttaro a Caserta si intreccia con la storia dell'emergenza di fiuti in Campania, protrattasi per una quindicina d'anni dal 1994 al 2009. Lo Stato iniziò a usarla proprio nel 1994, prima di allora era privata e si chiamava Ecologica Meridionale e quindi prese il nome dell'area in cui sorge. Per anni ha ricevuto rifiuti umidi per poi essere chiusa e riaperta nella primavera del 2007 con il nome di L'Uttaro II e Nuova L'Uttaro nel periodo più cupo della crisi dei rifiuti, quando i sacchetti di immondizia riempivano le strade dei comuni, in particolare delle province di Caserta e Napoli, arrivando fino ai primi piani delle case. Con la discarica napoletana di Villaricca in esaurimento, L'Uttaro II fu aperta in fretta e furia in una sorta di continuità con l'invaso usato nel 1994, L'Uttaro I, e ciò avvenne nonostante le proteste dei cittadini casertani, visto che la bonifica del primo invaso non era avvenuta e che nell'area inoltre già sorgevano altre due discariche realizzate in altrettante cave di tufo, un sito di trasferenza di rifiuti e fianco il Panettone, ovvero una montagna di immondizia proveniente dalla Notte Bianca tenutasi a Napoli nel 2003, rimosso solo nel 2010. Solo qualche giorno fa il Comune di Caserta ha annunciato lo stanziamento di 6,5 milioni di euro per bonificare una parte della discarica all'Uttaro, ma l'intervento, che peraltro partirà nel 2024, è arrivato troppo tardi.